Ciao signori, questo è un video così che ho fatto, che mi ha lasciato la mia ragazza, perché ho coperto che lei sapeva un ex ragazzano. Ho coperto a cuore che sapeva che io non ho... cioè non ho raggiunto a niente, perché se io dicevo si intassava con lei, e come mai era che sapeva un ex ragazzano che sapeva, e niente era... non posso far vedere i messaggi che mi mandava, perché se no succede un buggero. E niente, questo è la seconda volta che prendo la mia ragazza più bella del mondo, e... io le ho... grazie tutto, che è il supporto che mi dà, e... io ancora non ho fatto una clip che sapeva male, e... ero diperato, carissimo, che mi ha lasciato. e... io ancora non ho fatto una clip perché... se la mettevo... no, a parte... non la mettevo mai una clip, e... perché non potevo farla una clip così. e... 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 signore, eh... io sono animati un po' dietro, e... e... e così proprio... eh... la mia amica è formata caputare... e... e... io ci... 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 voglio un gatto a lei e perchè la amo voglio un gatto a lei e non posso dire nulla perché se non succeda un po' bene e quindi quest'origine lo metto sabato sabato domenica forse e vabbè signori e forse mi ricordo un altro abilanzato perchè anche lei non va bene per me ma che ho c'è ancora il numero però non lo cancello perchè Carlo io già lo so che se verserà o ex abilanzato se verserà bene e anche come un cometto che parlava con ex abilanzato allora io stavo camminando con lei e anche se si fermava ma che ho messo si fermava un attimo io che ho a bere e anche ho avuto fuori il telefono che fa un lavoro di emione che pagueva qua vabbè faccio così no e quando ho vinto il telefono suo stava parlando con ex suo e io fin ero niente e guardavo guardavo i messaggi che gli mandava a un certo punto il fidanzato suo dice che sei fidanzato con Massimo e poi quando ci mettiamo a camminare ha detto ti lascio e questa cosa è proprio andata così e ma io non la lascio non la lascio proprio più in là e mi lascio neve perchè la gente stava male cioè così mi diceva che proprio andava male vabbè cambia di là che qualcuno si lascia e qualcuno che è andata così mi chiede a fare un video e io sono un po' male e che succede solo a cosa e e e e io riazzi tutto e ci arriviamo a fare un video Verda. Edito la cosa. Non cattare male e ragazze di un mondo. Non cattare male. Credo che era solo zumbido. C'era verda.